ciao a tutti cari concittadini e cari amici e tutti quanti facciamo questo video siamo costretti a fare questo video un po per il maltempo non si può uscire un po perché ci sono anche i problemi che abbiamo tutti e quindi non si può per il momento vederci faccia a faccia quindi siamo così è perso e la politica quella faccia a faccia si è perso il contatto con la gente tutti sono diventati facebocchiani fanno la politica su facebook cosa che io non condivido ma mi vedo costretto anche io a dire la mia chi sta seguendo i miei comunicati praticamente noi vogliamo quello che volevamo nel 2008 cosa sono il riembimento della pianta organica è un piano di promozione umana che sarebbe i famosi 400 posti di lavoro a piazza armerina che si possono ancora fare non è che non sono mai andati in fumo quindi è inutile fare nomi tanto li conosciamo da una vita come sapete stiamo facendo una campagna di astensione di sfiducia costruttiva nei confronti dei politici chiamiamoli politici di piazza armerina sia i vecchi che i nuovi come si dice aspiranti perché vedete le foto ci sono i vecchi e i nuovi aspiranti questa gente se senza a mio avviso un ideale non hanno una direzione non hanno coerenza si uniscono solo per convenienza questo l'abbiamo detto tante volte inutile rimuginarci sopra il piano di promozione umana dei 400 posti di lavoro garantisce che la macchina comunale funziona benissimo che funziona al cento per cento qui si stanno continuando a sciocquare la bocca sull'ospedale che rientra nel piano di promozione umana quindi quando io dico assunzione di 400 posti di lavoro a piazza armerina il riembimento della pianta organica del comune vale anche per la sanità cioè il riembimento della pianta organica io ho fatto quello sciopero di 78 giorni anche per questo ragazzi non ho fatto solo per fini personale o perché mi stavano ledendo i diritti di famiglia e diritti di cittadino però vi voglio dire con molta franchezza ma voi vi fidate di queste persone a quelli nuova attenzione persone sono brave io ci parlo ci vediamo si parla perso politicamente però purtroppo devo dire che ci stanno prendendo in giro ancora una volta da quando è che chiediamo di sbloccare i pucchi progetti utili per la collettività legate alla legge del reddito di cittadinanza che il sindaco non ha fatto finta di non sentire cammarata e tutti questi che fanno tutta la pubblicità sul fatto che è il dissesto finanziario che per loro è la priorità ma scusate ma secondo voi è stato cammarata soltanto a fare il dissesto finanziario e tutte le amministrazioni precedenti come cosa hanno fatto per arrivare al punto che cammarata poi nella firma sul dissesto l'hanno fatto tutti insieme inutile che ci facciamo prendere in giro è inutile che ci facciamo prendere in giro con la mozione di sfiducia presentata che ancora sta nel cassetto è tutta una pagliacciata è tutta una messa in scena a piazza merina viviamo in una sop opera da sempre però lasciate perdere le mie parole guardatevi indietro guardate piazza merina 30 anni fa da 30 anni fa minimo va bene ad oggi chiunque è andato a fare il sindaco chiunque amministrato questa amministra questa città praticamente l'hanno scassata quindi come fai a fidarti quindi astenzione di sfiducia costruttiva le elezioni del di maggio giugno quando saranno non bisogna votare bisogna dare facciamo come se fossimo una camera dei parlamenti parlamente a a roma c'è l'astenzione è una cosa legittima non esate ad ascoltare a chi vi dice che non andando a votare peggio non sei civile invece è una cosa legittima cari concittadini voi non andate a votare fate una astenzione date un segnale forte per poi avere il voto la volta successiva cosa vogliamo il riembimento della pianta organica un piano di promozione umana di 400 posti di lavoro 816 euro al mese busta paga se ai figli prendi gli assegni questo piazza merina noi lo proponevamo nel 2008 si può fare di tornando ai book nessuno di tutte a queste o polo falso opposizione ha come dire sostenuto l'appello di resistenza in movimento per lo sblocco dei book che non sono niente non ti pagano va bene non ti pagano stanno facendo dei contatti che non sono contratti di 350 euro al mese ai disoccupati ma avete credete di avere un futuro lavorativo lavoro che si perde la motivazione del lavoro lavorando così per favore o per favore vi ricordo che a me ma non riempito di offerte di lavoro per abbandonare la lotta la battaglia politica per la civiltà e perché le ho rifiutati secondo voi fatevi questa domanda una vela ce ne sono tante risposte una vela do io a me l'email mi sta scoppiando di offerte di lavoro da sempre da sempre tutti i tentativi di corruzione noi a queste solo un primo video ma io vi voglio vedere vi voglio parlare nei quartieri verrò nei quartieri non so quando perché ora sono diventato papà o due gemelli altri due gemelli scusa quindi non so però nei quartieri in piazza cascino dobbiamo incontrarci per parlare di questi politici se così li possiamo chiamare va bene falliti tutti uno dietro l'altro e i nuovi emergenti cari cittadini che si stanno andando a impastare se vi ricordate io ho rifiutato l'assessorato nel 2008 per spostare i voti o a mattia nel 2008 anni grelli facevano proposte di compra vendita la gente mi dice ma perché non è accettato avresti fatto l'assessore avresti fatto il presidente del consiglio vi rispondo non lo faccio perché non mi voglio e mi schiare per questo il mio compagno ex compagno di battaglia se ne è andato perché lui si voleva impastare con loro e sapete benissimo come è andata a finire dopo un mese si è dimesso qualsiasi sia il motivo ed è sparito dalla circolazione questa per questa gente queste persone che sono tutte umanamente brave persone a te politicamente sono dei falliti quelli vecchi e quelli nuovi che si presentano che stanno bene capito hanno lo studio lo studio serve a caricare voti uno scambio questa mafia questa cosa nostra istituzionalizzata piazza almerina non può durare a lungo cari concittadini quindi l'appello che vi faccio è intanto il programma nostro è quello e ne a loro non gli interessa perché creare benessere significa che poi non si può ricattare e tenere sotto scarco nessuno io giuseppe camerino vi posso dire che è fattibile quindi dare forza resistenza in movimento iniziando senza manco incontrarci a non andare a votare per dare un bel segnale a questa gente fargli capire che non ci facciamo prendere più in giro cari 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 politici di piazza non ci facciamo prendere più in giro e vigiliamo chiunque va ad amministrare troverà noi lì a vigilare non ve lo scordate questo se non lavorate bene chiunque vada e spero che vada con pochi voti che piazza almerina video uno schiaffo morale politico morale di quelli forti e vi faccia capire che pur come me non mi fido non mi sono mai fidato nome e non continua a non fidarmi perché pensate solo agli affari vostri l'ospedale lo state utilizzando per fregare la gente e ancora la gente non l'ha capito che non gli deve credere a queste persone voi credeteci pure io non ci credo credo solo a quello che 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 ho le capacità di fare se io devo dare un voto cari concittadini non lo do a me stesso perché io so cosa voglio fare va bene quindi l'appello è non andate a votare e date forza resistenza in movimento che si vedrà è solo questione di tempo a me non piace correre la macchina per raccattare voti e già si è messa in moto le firme state attendi non fidatevi attenzione di sfiducia costruttiva ciao a tutti